Siete decise e risolute. E comunque 50.000 lire dall'aeroporto a qui è un furto. Avete sempre una soluzione pronta. Quante volte ci hai provato? Quattro. E se non resto incinta non è che posso adottarlo? No, perché vado una singola, non li danno. E insomma, siete come gli uomini. È così buono, così caro, così amorevole. Mi sembra di impazzire, ce l'ho qua. Ma potete anche farne a meno. Io ho altre sei eiaculazioni del mio Bruno Alto 1,85. Sei scema? Congelate. Ma facciamo tutti fratelli? Beh, almeno non sono figli unici. E soprattutto non cambiate mai. La fortuna è dalla mia parte perché l'amore mi ha abbandonata. Ti ha lasciata? Bruno, tuo marito? Ma che marito, dai! Ah, l'altro. Cosa vi è sfuggito? Ma l'amante di Sofia è il marito di Claudia. Ottimo, una rabbiatrice, ti prego. Oddio! Era solo un passo allarme. Eh, quando arrivano quelle vere te ne accorgi. Sono più come delle coltellate, come delle spade. No, 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 no. Le otto attrici italiane più acclamate del momento in una commedia sorprendente ed emozionante. Meno male che non ci sono uomini. Altrimenti ci prenderebbero per delle pazze, per delle assassine. Margarita Bui, Isabella Ferrari, Marina Massironi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Valeria Milillo, Claudia Pandolfi e Alba Rorvacher. Sarò un po' idealista, ma io penso che cambierà. Cioè, noi siamo molto diversi dalle nostre mamme, no? Due partite. Regia di Enzo Monteleone. Dici che non tornano più? No, no, tornano, tornano. Oddio! Dal 6 marzo al cinema.